La Serie B, le prime sensazioni sono positive perché ho trovato un bel gruppo, un gruppo affiatato, un gruppo di ragazzi che comunque mi hanno messo subito a disposizione nello spogliatoio e quindi mi stanno facendo ambientare. È un gruppo, ripeto, tutto giovane, quindi questo sicuramente aiuterà ad integrarmi al meglio. Stiamo lavorando bene e per adesso, fino ad ora, sono soddisfatto. Sì, mi piace spaziare lungo tutto il fronte d'attacco. Con il mister Inzaghi sono cinque anni che l'ho avuto come allenatore, ho giocato sia a destra o a sinistra, ma anche a punta centrale o seconda punta. Comunque il mio ruolo è l'attacco, quindi il compito mio è quello di buttarla dentro. Ogni anno ho sempre l'obiettivo di arrivare in doppia cifra e anche quest'anno ci proverò. No, è un mister alla mano, mi sono trovato subito bene. Tanto lavoro, comunque richiede tanto lavoro, tanta serietà e rispetto reciproco. Fino adesso c'è un rapporto eccezionale e spero sia così fino alla fine dell'anno. Magari, perché è stato un punto di riferimento per noi attaccanti e soprattutto per noi laziali. Quindi è sempre stato l'idolo indiscusso da piccolo, quindi venire qui sapendo che lui ha abbarcato questo campo, questa società mi riempie di gioia e spero di fare un minimo di carriera che ha fatto lui.